Musica Oh regà, 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 da questo lato ci prendiamo le solite case Faccio io che mi stacco? O stiamo tutti uniti? Mi stacco come al solito e voi prendete le case alte Moto, moto Sta qua, è qua davanti a me, regà È sceso davanti a me Arrivano, sono tutti qua davanti a me, regà Merda Ok, ok, nasconditi, nasconditi, nasconditi Vedo? No, non li vedo L'ho visto? Entravo nella casa rossa la prima È qua, regà Ok Non è morto, regà Fermo, fermo, fermo Uno corre Parla di merda Corri dove Abbiamo anche un team a nord-est Ok, il designe Che scende da woodcutter C'è un team che scende da woodcutter Si sono caperati lì dentro Sì, 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 ma non rischiamo, power Tornati indietro Mannaggia, regà Se venivate prima ora ce li eravamo fatti Eh, stavano tornando indietro Ma facevate da prima Ma no, ma da prima Quando abbiamo detto di andare là Stavamo tutti lontanissimi Uno dall'altro Lo vediamo il barn, power Quale? Sotto? È uscito fuori uno? Due Oddio, ma mai l'hanno vista allora Oddio, secondi Io mi boosto Qua ci faccio un muro di smoke Tu rimani qua il più possibile Uno è corso L'ha ammazzato almeno uno Continua tranquillo, eh Qua ne ha ammazzato uno Non so se cos'ha Wash, questa ha un first aid Se ti interessa Quello sotto ha un first aid Capito? Sì, è troppo tardi Ah, ok Va bene Vabbè, stavo posto Vanno lontani da noi Mi pare No No, non è vero Ci vengono proprio Ci vengono a cazzo duro Regà, prendete i tetti, eh E tu qua se vuoi c'è un'arma Arrivo Regà, qua la porta è aperta da me Ah, lo vedo Cazzo Cazzo Mi hanno baitato, regà Mi hanno baitato Sono safe Mi hanno baitato Uno è qua sotto Mi sta pushando Bravo, era lui Mi puoi venire a arrestare L'altro è dall'altra parte della strada C'è l'altro, c'è l'altro che arriva Mi serve aiuto Qua, qua, qua Arrivo, arrivo Edu, viene qua che c'è l'M16 C'ho la pistola Dove dentro? È 255, uno Dove è l'M16? Qua sopra il tetto Qua sopra il tetto Qua sopra il tetto Uno è dall'altra parte della strada Mi spara uno da dietro tra l'altro Nessuno riesce a venire Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è l'M16 L'M16 ho detto Guarda lì la power Dove è? Sono libero quando hai la power? Scusa, scusa Lo scusa, sto morendo, devi correre Arrivo, arrivo Shadow Moretto Shadow non so dove sia Sotto, 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 è sotto di me Shadow No, non ce l'ho Ce l'hai? Sì, sì, sì La donna ragazzi mi ha rotto Chi l'ha lasciato, chi l'ha lasciato È sotto di me dovrebbe essere È sotto Ragazzi non piccate, non piccate con calma Non è possibile No regà sta laggando il gioco Ero giù Ero giù Silenzio, silenzio Silenzio, silenzio Silenzio, silenzio No, no, no regà sta laggando tutto Dov'è super giù? Dove ho messo il punto Anzi lo metto ancora più preciso Sopra il tetto Sopra il tetto Sopra il tetto Ce l'hai le band o mi dirò un first aid? Sì, lo vabbè Mi sa che pushano Regà questi l'ingaggio io muoio Non mi entrano i colpi Sono morto, io sono morto, sono morto Ma c'è problema che li sta No regà, non mi entrano i colpi Non so che vuol Mi ha preso con l'ultimo aid C'è dietro l'albero Se no ce l'ho a vivere Ce l'hai le cure, Washa Sesti Regà sta ti facendo troppo casino Vieni Edu C'è col ponte C'è un buggy sul ponte, fermo Vieni a vedere le case, quelle che ti ho chiamato Ragazzi, ragazzi ce l'ho davanti, il campo aperto Ce l'ho davanti, il campo aperto Vieni Edu, vieni Vieni due, siete in due Vieni Edu, sono due Gli ho sparato, l'ho feriti Da le case, torniamo indietro, torna indietro, torna indietro Ce l'ho davanti, regà, ce l'ho davanti Sono qua Ne ho spiaggiato, siete vinciati Io su qua sono, regà, prendetevi kit, ne ho quattro Vai Sento che c'è un team qua davanti Gli ultimi due sono Giù Ecco l'altro Non passano i colpi Vabbè lì puoi passare Giù, 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 giù Sta mirando Sta restando ora Bravo Edu, bravo Curati Vai, vai, corri, corri Sei morto, sei morto, sei morto Non sei morto Qua ti negra Mon cazzo Perché c'è un party intorno a Washout? Cosa sta accadendo qua dentro? Cosa sta accadendo? Cosa sta succedendo qui dentro? No, regà, sono in mezzo No, regà, sono in mezzo No, regà, fatemi uscire Oddio Ero in mezzo Uno dentro la casa Nel piano intermedio, Wash Piano intermedio Prima di salire sul tetto Ti stava guardando Merda Dove? Eh, secondo piano Secondo piano Qua ti sta mirando da sotto Wash ne ha due davanti Wash, no No, 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 può fare Glielo finisce Ne ha due Sta arrivando la zona Quello fa massa Esce dal retro, Wash Esce dal retro Wash, il furgone è distrutto alla tua sinistra Il furgone è distrutto alla tua sinistra Quello è distrutto, lo vedi? Il camion è distrutto alla tua sinistra Sto ne dando Furgone è distrutto Chill, chill, chill Uno in vita Abbiamo la zona Bravi GG Dai, cazzo Bravi, regà Wash Che cazzo hai fatto lì? Ho sparato 8 kill Carca troia Due Grandi boys Due Due, quindi Otto, dodici Power zero Morto subito Eh, vabbè E io, ragazzi No, no, no Io guardo dall'alto Hai fatto benissimo Hai fatto buona call Spen, io tiro tre smoke verso le case Tiratele verso di loro, voglio Da qualche altra parte Aspetta Aspetta che c'è una depressione Vabbè Restalo Raga, qua c'è una depressione io Non sono con voi Raga, io qua ho una depressione della madonna Sono invisibile Per ora, per ora va bene così Poi quando si chiude la zona Quante smoke avete? Quante smoke avete ancora? Zero Ne ho una Allora, il problema è il tralicio qua davanti a noi Sarebbe Wash, uno di noi corre come un pazzo assassino E l'altro spara e prova a prenderlo Ma dobbiamo killarli Dobbiamo killarli Dobbiamo killarli Dobbiamo killarli C'è da fightare Edù Allora Edù non deve fare niente Capito Edù? Perfetto Sì 3v4 Appunto Dobbiamo killarli, raga No, magari c'è Magari c'è avuto tre Sì Dimmi che siamo 3-3 Può essere Aspettate C'è un altro team Ok, uno è morto 3v3 Arriva la zona Wash, io corro Tieni il medikit Io corro, mi faccio vedere Tu curati Tu curati Tu curati Tu curati Secondo posto Buono Buono Va bene Buono Posso provare a fare un crossfire se vuoi Vallo Dai Stai, non ti hai messato la strada? Quelli al denaro dove sono? Non lo so Ce n'è uno Ce n'è uno su questo tetto qua, raga No cato Al blu Morto La francia, la francia Moto, 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 moto Regà, vai, 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 vai Niente Raga, non ho più colpi Stai provato, stai provato, stai provato No, 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 no No cato uno, no cato uno Nice Da sopra ci spavano ora, occhio Il team ha le case, quelle blu Raga, perché c'è una Scusami Gialle Erano due Erano due Uno è noccato io Finiscile Andiamo a cisti alberi C'è un team sotto Non passare di qua Io sono morto Io sono morto Lascio dei first aid sul mio cadavere Li ho lasciati per terra Bravo 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 Sì Hanno aggiornato Guarda Boni Boni Zit Allora Dalla voce di Losca è deluso Wash non sta parlando quindi è incazzato E dalle Quinti Allora Io Per un cazzo di punti Vaffanculo Vabbè Io ragazzi Sinceramente sono felice Del quinto posto Voi Potremmo fare di più eh Sì Almeno terzo Almeno terzo ci potevamo arrivare Sono stati un po' sfigati No Porca puttana Quella parola di merda Quale No 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 Sfigati Sfigati Se sei forte vinci Se sei scarso no A me nessuno Chi ha detto sfigati Io Ah non t'avevo sentito Conta No vabbè Potevamo giocare meglio Però il quinto posto ci sta Edu Edu si è bloccato nella roccia Io sono stato sfigato Lo posso dire Vabbè Regà Posso dire una cosa io Secondo me Il quinto posto ci sta Con queste persone Certo Hanno dieci volte la nostra esperienza Se non di più Giocano da giocatori professionisti A questo gioco L'ottanta per cento Dei player Lì dentro Noi ancora no E noi nonostante questo Siamo arrivati quinti Che è che è una cup Che non vale un cazzo Non Quello che vi pare Però ugualmente A noi questo ci ha fatto bene Ci ha dato Sicuramente ci ha aiutato un sacco Per prima cosa A livello di allenamento Mentalità eccetera eccetera Seconda cosa Sicuramente potremmo essere Nella top 3 E' vero E' vero Ma se eravamo nella top 3 Vuol dire che non avevamo niente da imparare E siamo arrivati più tardi Di tutte le persone Che stanno giocando lì dentro Anche se arrivi il primo Hai qualcosa da imparare Si assolutamente Wash Ma tutte le persone Che stanno in questi team Persone che hanno già fatto Land e tornei Tornei E non parlo di PUBG online Quindi proprio per questo Va bene quinto posto Potevamo ottenere di più Ok? Però sicuramente Abbiamo Abbiamo fatto meglio Di gente che è professionista In questo cazzo di gioco